eccoci qui allora questo qui invece valido dal 30 ottobre al 27 dicembre quindi avete tantissimo tempo come vedete all'inizio ci dice che cosa più o meno troveremo quindi aspettate che vi ok kit capelli splendenti scrigno carité magique calendario dell'avvento e calendario make up allora ci sono queste linee che sono nuove sono in edizione limitata per il 2020 e sono appunto fatte apposta per questa edizione di natale ci sono vari prodotti ci sono bagno doccia creme ma bagno doccia da 50 ml creme mani e gommage corpo che potete prendere se volete fare un pacchettino voi altrimenti adesso vedremo più avanti nello scorrere dell'album che ci sono delle confezioni dei pacchetti già pronti che vi arriveranno a casa voi dovete solamente diciamo aprire la scatola o montare la scatolina alcuni invece vi arrivano già fatti voi mettete dentro i prodotti ed ecco lì che regalo di natale già belle che fatto utile vi arriva direttamente a casa quindi con questo casino non dovete neanche andare in giro nei negozi perciò direi che è molto comodo la prima idea regalo che troviamo questa qui duo bacche fatate che comprende una crema mani da 30 ml e un balsamo labbra queste qui le ho ve le faccio vedere allora da farvi vedere ho il bagno doccia che è quello lì da 50 ml vedete com'è bella la confezione e poi la crema mani è veramente molto carina sia la confezione comunque è piccola ma poi alla fine neanche troppo perché non è che ne servono 16 quintali poi andiamo avanti e c'è il bagno doccia invece da 200 ml il balsamo labbra la crema mani il sapone liquido e la candela profumata e il bagno doccia invece il bagno doccia da 400 ml questi qua se li volete prendere singolarmente pure c'è appunto come vi dicevo qui la crema mani il balsamo labbra già in questa confezione qui se no se procediamo vedete ci sono già altre due confezioni già fatte questo qui è 60 la casetta bacche fatate che contiene all'interno il balsamo labbra la crema mani il bagno doccia da 50 ml e gommage corpo ce l'ho da farvela vedere eccola qui risulta così proprio dal vivo con le finestrelle dove si vedono i vari prodotti e vi arriva già così montata con dentro già i prodotti ma dovete solo consegnarla e come dicevo in un altro video sono talmente belle che non serve neanche incantare quindi sono già pronte così da regalare magari ok un bigliettino però già pronte così da regalare sono molto molto belle poi se no c'è questa confezione bacche fatate che al gommage corpo da 30 ml il bagno doccia da 200 ml poi il sapone liquido mani da 100 ml passiamo a un'altra profumazione anche questa in edizione limitata per questo natale 2020 qua la profumazione e mele d'inverno ha gli stessi prodotti anche qui c'è la confezione il duo mele d'inverno con la crema mani e il balsamo labbra e anche qui ce l'ho da farvi vedere qui abbiamo la crema e ho il balsamo labbra da farvi vedere così esattamente come lo fanno vedere lì a voi ovviamente arriva in questa confezione qui e poi andando avanti ci sono sempre se li volete prendere singolarmente perché magari volete fare un cesto voi e tutti gli altri prodotti quindi anche il balsamo labbra singolarmente non per farci in quella confezione il sapone liquido per le mani la candela profumata e il bagno doccia se no come vi dicevo ci sono sempre le confezioni anche qua la casetta mele d'inverno e la confezione mele d'inverno andando avanti troviamo confezioni a queste qui sempre a 9 euro e 95 anche quelle bacche fatate andando avanti invece troviamo già una confezione un pochettino più grande che ha il cestino dove poi poterle riporre anche quando magari si vanno a mettere nel bagno tutte due una alle bacche fatate l'altro alle mele d'inverno comprendono la crema mani da 75 ml il latte corpo nutriente a carité il bagno doccia da 200 ml il bagno doccia da 50 ml il sapone liquido per le mani da 190 ml il balsamo doccia ultranutriente carité magique 30 ml e il cestino poi andando avanti sempre in queste due profumazioni troviamo lo scrigno mele d'inverno anche questi qua sono composti uguali e dentro hanno il sapone liquido mani da 190 ml la crema mani da 30 ml il bagno doccia da 400 ml il latte corpo nutriente intenso carité magique da 200 ml il gommage corpo carité magique da 30 ml e la spugna esfoliante in più lo scrigno che è una scatola che non si vede tanto bene forse si vede un pochettino di più qui ha davanti un piccolo vetro diciamo che così almeno si vede dentro quello che c'è poi scusate questi qui a 19 euro e 95 andiamo avanti il prezzo si alza ancora questi qui a 29 euro e 95 è il cestino è fatto in legno e sempre bacche fatate o mele d'inverno questo cestino invece comprende la crema mani da 75 ml il sapone liquido mani da 190 ml la candela profumata da 70 grammi il balsamo corpo nutriente intenso carité magique da 150 ml il bagno doccia da 400 ml il gommage corpo da 150 ml il balsamo doccia ultranutriente carité magique 30 ml la spugna esfoliante proseguiamo e abbiamo due bellissime valigette cioè praticamente sono di più però sono i baby set quindi di regalo per i più piccoli abbiamo la valigetta e dentro abbiamo balsamo labbra sapone sensuale quindi la saponetta bagno doccia e crema mani questi qui ce l'ho da farvi vedere così almeno avete un'idea proprio anche in mano com'è è fatto così la valigetta con tutti gli uccellini in blu all'apertura qui così si apre e dentro ci sono i prodotti va bene il vostro caso se vi arrivano a casa li trovate fuori quindi prodotti da una parte la valigetta dall'altra dovete poi voi metterci lì dentro come vedete c'è il bagno doccia la crema mani il balsamo labbra e la saponetta è molto carina anche questa qua come idea regalo cioè è molto molto carina queste qui sono al prezzo di 12 euro e 95 c'è appunto mango e coriandolo che quella che vi ho fatto vedere io poi c'è nocce di cocco poi abbiamo nocce di cocco vaniglia barbon invece con dei con degli zainetti in stoffa e dentro hanno la crema mani da 30 ml il balsamo labbra il latte corpo da 200 ml l'acqua profumata corpo e capelli da 100 ml e il bagno doccia da 400 ml questi qua sempre 19 euro e 95 poi passiamo ad altre idee regalo due di queste ve le posso far vedere abbiamo per il viso il kit maschere viso dove ci sono tre maschere c'è il gommage granita luminosità la maschera gel purificante la maschera balsamo rigenerante il kit capelli splendenti dove c'è il gommage ossigenante l'aceto da risciacquo brillantezza e il balsamo botanico universale poi invece da quest'altra parte ci sono per le mani c'è il kit creme mani ci sono quattro creme mani in diverse profumazioni nocce di cocco mango e coriandola vaniglia barbon e fiore di lotto e salvia oppure per la doccia la confezione di 6 bagno doccia in formato da 50 ml cada uno quindi così sono 6 così e dunque posso farvi vedere dal vero questa qui cioè dal vero io la vedo dal vero perché per voi sempre in video però questa qui è questa per i capelli sul bianco è la confezione invece le creme mani sono in una confezione sul blu sempre con i dettagli dorati secondo me è bellissima anche questa qui cioè sapete che una persona ha le mani in delicato che comunque ama tanto le creme mani secondo me questa qui è una bellissima idea regalo 9 euro e 95 questa 9 euro e 95 queste creme mani 9 euro e 95 questo qui per i capelli e 12 euro e 95 maschere per il viso andiamo avanti e qui io vi metto una mano qua per non farvi vedere completamente quello che troverete all'interno c'è il calendario meravigliosissimo dell'avvento che io ho preso e sto aspettando solo che mi arriva lo aprirò con voi durante i vlogmas e quindi scopriremo assieme quello che c'è dentro questo ha un prezzo di 49 euro e 95 ed è valido dal 30 ottobre al 25 di novembre comunque in generale si trovano prodotti per il viso per il make up diciamo per il corpo per i capelli per l'igiene e anche qualche profumino poi se no c'è il calendario make up che però ha solamente 7 caselline infatti 7 giorni 7 prodotti questo qui è valido dal 26 novembre al 27 dicembre e costa 29 euro e 95 poi ci sono altri dei regalo per quanto riguarda il make up abbiamo il mascara con proprio il pack di natale poi la palette occhi e poi queste di regalo è un cottage occhi se c'è sia grey che brown e comprende una palette e il mascara più questa scatolina che ho da farvi vedere la scatolina è questa si apre così e dentro c'è la palette e il mascara quindi poi comunque buona anche per da metterci dentro delle cose la scatolina quindi anche questa qui molto molto natalizia mi piace tantissimo quindi direi che non è male proprio per niente questa qui appunto al prezzo 19 euro e 95 andando avanti abbiamo altre scatoline questa qui è nail cottage ci sono degli smalti rosso cioè in due tonalità di rosso la base rinforzante e la crema a mani aceri cocco qua invece ci sono nude quindi abbiamo due smalti sul rosè sul beige la base sempre rinforzante la crema a mani invece vaniglia barbun poi sul pink abbiamo due smalti fucsia praticamente la base rinforzante e la crema a mani aceri cocco poi sul blu la crema a mani aceri 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 smalti sono due blu sul da c'è una il dark abbiamo gli smalti c'è 1 a mani aceri 1 a mani aceri a mani aceri cocco questo qui a 14 euro e 95 poi il profumo con il rossetto in edizione limitata il mon rouge a 29 euro e 95 abbiamo altre confezioni sempre cofanetti dei profumi che hanno alcuni hanno il latte corpo e gel doccia altri hanno anche l'eau de parfum da tenere in borsetta e niente poi qui invece abbiamo tipo la crema per le mani e sono molto belli anche perché le creme mani sono penso della stessa profumazione del profumo quindi fantastico poi se no c'è questa pochette con tre profumini da 10 ml in varie fragranze a 19 euro e 95 poi di quella linea che vi dicevo che queste confezioni sono in edizione limitata per il 2020 a 24 euro e 95 cioè sia la crema mani che l'eau de parfum da 30 ml quindi anche qua ottimo perché se a uno piace il profumo ecco qua ci sono anche le altre profumazioni secondo me non è niente male poi abbiamo qui cofanetti con profumo di mughetto o profumo di tè verde che contiene il gel doccia da 200 ml e poi il profumo da 100 ml se no c'è profumo di ciliegio profumo di verbena e il profumo di rosa a 22 euro e 95 poi ovviamente non poteva mancare nelle linee nei regali anche la linea viso questa qui alla camomilla abbiamo un'idea regalo qui c'è il l'olio struccante e l'acqua micellare a 14 euro e 95 e e poi invece passiamo alle vanity sensitive camomill in questa bellissima pochettina che comprende la crema detergente l'acqua micellare e il balsamo comfort nutriente queste qui a 21 euro e 95 anche la linea idra vegeta l'ha pensato delle confezioni natalizie se uno sa che a una persona qui vuole fare questo tipo di regalo piace tanto questa linea è un'ottima cosa regalargliela per natale sicuramente si fa un regalo gradito questo qui abbiamo 9 euro e 95 il tonico idratante latte detergente se no 19 euro e 95 con la pochettina abbiamo questo qui è gel crema idratante non stop poi il gel esfoliante e il gel detergente mentre invece qua c'è la crema ricca il gel esfoliante e il gel detergente poi anche ovviamente la sebo vegetal e la sebo vegetal pure hanno fatto comunque questo questo tipo di confezione qua ci mette addirittura una la spugnetta cognac mentre invece qui ci mette il gel zero difetti gel crema zero difetti queste qui a 19 euro e 95 ci mettono le stesse cose anche le altre linee di crema ci fanno le stesse confezioni a 12 euro e 95 tipo a 34 euro e 95 anche la linea rossa anche la linea bianca a 44 euro e 95 altrimenti qua abbiamo 29 euro e 95 la linea rossa e la linea verde scura 39 euro e 95 anche qui abbiamo altre confezioni regalo sempre per quanto riguardano le creme viso e vari trattamenti questa linea qui ha fatto questa pochettina 34 euro e 95 oppure 24 euro e 95 poi arriva l'idea regalo per gli uomini anche dove abbiamo una salviettina viso il beauty case e poi e poi e poi la schiuma da barba il balsamo dopo barba e il trattamento idratante 3 in 1 andando avanti invece troviamo queste confezioni a questo qui a 19 euro e 95 andando avanti troviamo anche queste confezioni con sempre queste pochettine o queste scatoline a prezzi diversi anche questo qui 12 euro e 95 dentro abbiamo il gel doccia corpo e capelli e lo shampoo micellare detox anti inquinamento in quest'altro invece a 29 euro e 95 troviamo lo de toilette da 100 ml e il gel doccia corpo e capelli da 200 ml c'è un altro a 12 euro e 95 sempre c'è il gel doccia e vari tipi di shampoo no lo shampoo è sempre lo stesso cambia il gel doccia e altri sempre a 29 euro e 95 col profumo e il gel doccia ovviamente sono uguali e poi invece per il colpo e capelli anche lì abbiamo delle confezioni a regalo dove ci sono all'interno shampoo crema districante e la maschera tipo questo 12 euro e 95 sono quelli nutriti qua invece abbiamo capelli riparati e abbiamo lo shampoo il balsamo e sempre la maschera e poi c'è quella per i capelli colorati poi poi abbiamo questo qui sempre col cestino di legno 34 euro e 95 che comprende il latte nutriente la crema mani nutriente il bagno doccia olivia o si olivia oliva petit grain da 400 ml il sapone liquido mani alla noce di cocco il balsamo mani antifreddo il gommage vegetale corpo la 150 ml poi c'è la linea riparazione c'è shampoo crema 300 ml il balsamo districante a 200 ml la maschera due in uno a 30 e 35 ml poi invece qui abbiamo per quanto quello che riguarda amman arganerosa ci sono ci sono varie confezioni si abbiamo questa da 19 euro e 95 che comprende crema mani latte corpo e olio infuso corpo poi questo questo qua invece 9 euro 95 bagno doccia e latte corpo questo qui al bagno doccia il latte corpo e la crema mani e poi ha il sapone liquido vaniglia barbun il sapone liquido mani e poi c'è il cestino appunto e poi qua invece abbiamo vedete come vedete in base se sono un po più grandi un po più piccoli il prezzo cambia tipo questo qua 14 euro 95 a 19 euro 95 abbiamo il cofanetto più grande ma abbiamo più cose qui per esempio c'è la crema mani bagno doccia latte corpo poi vaniglia barbun sapone delicato e sapone il liquido mani e liquido mani e al mango e coriandola abbiamo il gel doccia esfoliante lì invece a 29 euro e 95 abbiamo a manna arganerosa il latte corpo e il bagno doccia la crema mani al vaniglia barbun al vaniglia barbun il sapone delicato il sapone liquido mani balsamo labbra l'acqua profumata corpo e capelli il gel doccia e la salvietta anche e questa qui arancione non l'avevo vista andando avanti sempre per l'igiene e il benessere invece abbiamo le accoppiate a 9 euro e 95 con il bagno doccia e latte corpo in varie profumazioni in varie fragranze c'è noce di cocco e poi qui abbiamo vaniglia barbun qui lampone menta piperita e questo qui lavandina e mora anche questo qui come idea regalo se uno vuole fare solo un pensierino comunque sono profumazioni un po' più particolari e non costano tantissimo e secondo me sono molto carine poi invece qua 14 euro e 95 abbiamo dei cestini anche questi qua sono di diversa profumazione questo qui è goloso e tutto quanto al vaniglia barbun questo qui delicato ha lavandina e mora e oliva e petit grain sono sempre creme mani sapone mani latte corpo e sapone e bagno doccia e poi il cestino energizzante che ha invece tutto quanto a mango e coriandolo scusatemi eh questi qui a 14 euro e 95 ci sono ancora altre profumazioni abbiamo esotico alla noce di cocco frizzante lampone e menta piperita e mango e coriandolo rilassante mandorle e fiori d'arancio oliva e petit grain e poi aromatico solo tutto l'oliva e petit grain andando avanti abbiamo quasi finito eh ci sono veramente tantissime idee regalo per Natale secondo me per tutte le tasche per tutti i gusti veramente un ottimo ottimo album questa qui è 19 euro e 95 sempre con la cassettina con il vetro la plastica sopra questo qui è eh lo scrigno esotico eh alla noce di cocco comprende bagno doccia latte corpo crema mani sapone sensuale e sapone liquido e poi mango e coriandolo al gel doccia esfoliante mentre invece quest'altro è uno scrigno sensuale a vaniglia barbun bagno doccia latte corpo crema mani sapone delicato e sapone liquido mani e mango e coriandolo poi sempre uguale a quelle scatole lì a 19 euro e 95 c'è l'energizzante però come profumazione a tutto e solo mango e coriandolo poi frizzante lampone menta piperita e mango e coriandolo aromatico c'è mandorle e fiori d'arancio oliva e petit grain mango e coriandolo e invece lo scrigno rilassante ha come profumazione lavandina e mora oliva e petit grain mango e coriandolo proseguendo troviamo le ultime confezioni a regalo dentro delle scatole un po' più grandi il prezzo il prezzo scusate il prezzo è di 29 euro e 95 abbiamo quello rilassante che come profumazioni a mandorle e fiori d'arancio oliva e petit grain e noce di cocco come invece prodotti diciamo dentro contiene il latte corpo il bagno doccia e il sapone rilassante poi il sapone liquido mani la crema mani e il gel doccia concentrato l'acqua profumata corpo e capelli e il balsamo labbra la salvietta e appunto lo scrigno poi invece lo scrigno sensuale ha tutto vaniglia barbon lo scrigno esotico ha noce di cocco e vaniglia barbon e poi ci sono questi qua che invece sono più grandi contengono altre cose molte più cose ecco costano 34 euro e 95 ne abbiamo di diverso tipo c'è quello sensuale che ha vaniglia barbon come profumazioni e mango e coriandolo e all'interno troviamo il balsamo labbra, il latte corpo, l'acqua profumata il latte corpo da 390 ml, l'acqua profumata da 100 ml, il sapone liquido mani da 190 ml il gel doccia concentrato da 100 ml, il bagno doccia da 400 ml, olio doccia da 200 ml, crema mani da 30 ml il sapone delicato da 80 grammi che è la saponetta, il gel doccia esfoliante da 200 ml c'è la spugna esfoliante e il cestino di legno che si può riutilizzare nel cestino esotico abbiamo le profumazioni mandala e fiore d'arancio, oliva e petit grain, mango e coriandolo e noce di cocco invece nel cestino tropicale abbiamo noce di cocco, vaniglia barbon e mango e coriandolo e poi arriviamo alla fine, queste qui sono le ultime due facciate praticamente dove abbiamo quest'idea regalo a 12,95 euro in questa carinissima confezione bianca con dettagli dorati che ha all'interno il gommage corpo, il latte corpo nutriente e il balsamo doccia che possono anche essere comprati come vedete dai prezzi qui sotto separatamente poi alla 12,95 euro carité e bacche fatate contengono crema mani, il balsamo doccia e il latte corpo e poi invece questa qua ha le mele d'inverno, bagno doccia e latte corpo al carité e la crema mani alle mele d'inverno appunto qui in fondo l'ultima, l'ultima proprio promozione poi abbiamo finito è quest'idea regalo, casetta carité magique che comprende il balsamo doccia da 200 ml il latte corpo da 30 ml, il gommage corpo da 150 ml e il balsamo corpo da 150 ml in più c'è questa casettina per gli uccellini ha 24,95 euro quindi questo è tutto per quanto riguarda i due questi due album spero che vi siano piaciuti vi lascerò sotto sia nell'altro video ve l'ho già lasciato sia in questo vi lascerò il link per scrivermi direttamente su whatsapp se volete avere il catalogo digitale e se volete ulteriori informazioni per riceverlo direttamente a casa perché ovviamente se abitate lontano non ve lo posso portare ma potete riceverlo direttamente a casa con uno sconto e con due regali aggiuntivi quindi se appunto vi interessa scrivetemi e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao 1, 2, 3, come on come on, come on come on ha ha ha